siamo tornati siamo tornati riapre ufficialmente la viale arena scusa apre ufficialmente la viale arena quindi da oggi si può nuovamente urlare preparate il comunicato preparate il comunicato preparate il comunicato cavo pattuglia e capo corpo cavo pattuglia e capo corpo rispondi corpo onestamente parlando ragazzi vi posso assicurare vi posso assicurare che ci sono tra i 1000 e 1500 gradi fahrenheit quindi anche perché questa settimana picchia forte il sole picchia forte picchia forte ma nulla oggi mi poteva impedire riaprire la nati arena niente e nessuno la nati arena è qui presente con tutto il suo splendore con tutto il suo splendore vi ripresento nuovamente l'amico fidato agnelli non l'acquisterai la società agnelli non l'acquisterai no è il can è il can è il can ma si c'è incazzata fino alla fine allegri l'altro grazie grazie